La scolca significa guardare lontano, un'azienda di 90 anni di tradizione ma allo stesso tempo molto innovativa, un'azienda che guarda il futuro, che investe in tecnologia. Per noi è importante l'innovazione rispetto dell'ambiente, il rispetto dei processi, dei valori umani. Noi sappiamo quanto le piante di sughero fanno parte del nostro grande patrimonio, sappiamo quanto bisogna rispettare a nostra volta i territori dove nascono e crescono le nostre vigne. Noi abbiamo ritrovato tutti questi valori in Diam, nell'azienda e abbiamo deciso di adottare i tappi Diam e Mitic proprio perché volevamo raccogliere questa nuova sfida. L'aderenza perfetta al collo della bottiglia, l'elasticità e la garanzia al 100% sui batteri. Sicuramente io lo trovo anche un prodotto di grande charme perché è anche esteticamente bello. Abbiamo deciso di adottare i tappi Diam anche sulla nostra etichetta nera Gavi dei Gavi, il nostro vino più prestigioso, più rappresentativo, proprio perché volevamo dare un segnale chiaro e forte di quanto l'innovazione, la tecnologia e la partnership tra aziende possa garantire dei grandi risultati. Il vino deve essere conservato nel migliore dei modi, un vino come il nostro internazionale che arriva negli angoli più sperduti del mondo deve poter essere garantito da una chiusura eccezionale e Diam in questo è un partner che garantisce per noi la tenuta, la resistenza, la longevità e assolutamente una partnership che ha valore e rende ancora più prestigioso il nostro lavoro, le nostre fatiche e la nostra passione.